Anche nei confronti della terra, anzi della madre terra per usare un'espressione che le è cara, lo sfruttamento del pianeta con le conseguenze catastrofiche climatiche a cui lei ha dedicato la sua enciclica Laudato Sii, sembrano mostrare una sorta di umanità pervasa da un senso di onnipotenza, che è strano perché in realtà appunto come dice lei più volte ha ripetuto il verbo vedere, oggi siamo in grado di vedere tutto, le nostre conseguenze sono evidenti, eppure anche in questo caso in modo autolesionista ci giriamo dall'altra parte, contro noi stessi. Stiamo vedendo questa realtà, è un po' dappertutto, pensiamo in Amazonia, la sforestazione, sappiamo cosa significa una politica di sforestazione, significa meno ossigeno, significa cambio climatico, significa morte della biodiversità, significa uccidere la madre terra. E non avere quel rapporto che hanno i popoli aborigini, i popoli originari con la terra, che loro chiamano il buon vivere, che non è la buona vita, no, è il buon vivere, cioè il vivere in armonia con la terra. Ho ascoltato una canzone bellissima di Roberto Carlos poco fa, papà perché il fiume non canta più? Il bambino, papà perché il fiume non canta più? E la verità è figlio mio perché il fiume non c'è più. Lo abbiamo finito noi. E questo dramma, il capo dei scientisti italiani in un convegno che abbiamo avuto qui in Vaticano alcuni mesi fa, ha detto questo. Mia nipotina, nata alcuni giorni fa, se le cose non chiamano, non cambiano, dovrà vivere entro trent'anni in un mondo inabitabile. Mettere questo in testa, prendersi il calco della madre terra, come la chiamano i popoli originari, la madre terra. I pescatori di San Benedetto del Tronto che sono venuti da me hanno trovato un anno 3 milioni di, non ricordo, di tonnellate, ma enorme, 3.000 tonnellate di, non so, di plastica. Si hanno preso carica di quello, due anni dopo sono venuti e mi hanno parlato del doppio, ma erano organizzati e prendono ogni rifiuto dal mare per pulire il mare. Perché sentono che il mare è cosa sua, hanno entrato in sintonia con la terra e l'hanno curata. Buttare via plastica al mare è criminale, per questo uccide, uccide la biodiversità, uccide la terra, uccide tutto. Prendersi cura del creato, è un'educazione che noi dobbiamo fare. Grazie.